Vincenzo Toscano era stato raggiunto da un'ordinanza cautelare nel 2019 nell'ambito dell'operazione Atena con l'accusa di far parte del mandamento mafioso di Porta Nuova. In quell'occasione le indagini dei carabinieri fecero emergere come il clan avesse organizzato piazze di spaccio di sostanze stupefacenti e venne anche contestato il reato di illecita concorrenza aggravata dal metodo mafioso per avere imposto la fornitura di caffè a bar del territorio. Furono inoltre individuati gli autori di cinque estorsioni consumate e tentate nei confronti di imprenditori e commercianti costretti al versamento a Cosa Nostra del Pizzo. Vincenzo Adelfio invece è stato arrestato nel marzo del 2016 nell'operazione Brasca con l'accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo Villa Grazia in particolare per essere stato un punto di riferimento delle estorsioni riportando una condanna di primo e secondo grado a nove anni e quattro mesi di reclusione. Oggi nei loro confronti i carabinieri hanno eseguito una confisca e un sequestro. Nel dettaglio si tratta di una confisca di beni per 200.000 euro a carico di Vincenzo Adelfio e riguardo un appartamento nel quartiere Villa Grazia e di un sequestro per 250.000 euro a Vincenzo Toscano in relazione ad un appartamento nella zona di Belmonte chiavelli.